Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Anche oggi voglio mostrarvi 5 profili Instagram di Street Photographer. Chi è più conosciuto anche qui e alcuni meno conosciuti, però sono dei profili Instagram assolutamente da seguire se volete avere delle ottime ispirazioni per quanto riguarda appunto la street photography. Quindi potete assolutamente prendere spunto dalle loro fotografie, cosa che faccio sempre anch'io assolutamente, per appunto migliorarvi e prendere appunto veramente qualche idea per le vostre fotografie. In realtà non sono solo 5 ma sono 5 più 1 perché appunto uno dei miei follower mi ha consigliato appunto un altro street photography che sinceramente non conoscevo, che non avevo trovato appunto sul web, assolutamente fantastico. Quindi se siete interessati come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di mettermi un bel like e that's it, let's get started! Eccoci qua, allora, il primo dei 5, anzi 6 profili Instagram di Street Photographer che voglio presentarvi è sicuramente un profilo molto conosciuto, almeno credo, ho l'impressione che sia abbastanza conosciuto, che è quello di Josh K. Jack, Josh Jack, Josh, diciamo che il nickname Instagram è un po' difficile, diciamo così, però comunque, si chiama Joshua K. Jackson, è un fotografo londinese, ok? Apparentemente ho scoperto in realtà, per caso, nel senso che non ho, cioè comunque non guardo le sue foto tutti i giorni e ho scoperto che appunto ha diverse foto con Sean Tack, eccolo qua, che è anche lui un famoso fotografo e soprattutto youtuber londinese, vi linko il suo profilo YouTube, appunto, il suo canale YouTube in descrizione, non che ovviamente gli serve il mio shout out. Andate a vedervi i suoi video perché sono veramente molto belli, fatti molto bene, molto profondi appunto sulla fotografia in generale. Anche lui comunque è uno street photographer. Tornando a Josh, Joshua K. Jackson, appunto, quello che mi piace anche qua del suo profilo è sicuramente la consistenza. La consistenza sia nei colori, comunque nel mood principalmente, e appunto anche qua c'è un mix un po' di tutti i stili, diciamo così, che seguono la street photography come per esempio appunto le luci notturne, i riflessi, appunto i riflessi sono numerosi, i ritratti appunto di persone in strada, questa è sicuramente una delle foto più famose sue. Ha aperto come altri street photography appunto dei canali NFT dove potete comprarvi con Ethereum se volete appunto le sue fotografie per avere dei pezzi digitali unici. Ovviamente costano un fottio, quindi insomma se ci avete soldi da spendere, insomma sicuramente è un buon investimento perché gli NFT sicuramente saranno il futuro dell'arte. Comunque in generale possiamo tornare al suo profilo. Una cosa che ho notato è che molte delle sue fotografie sono spesso ripetute nel suo profilo e se andiamo molto indietro appunto possiamo notare che torniamo ad uno stile fotografico pur essendo le fotografie postate più o meno sempre le stesse, uno stile fotografico che è quello che andava un po' più di moda qualche tempo fa quindi con la fotografia in appunto in formato pieno e appunto questo bandone bianco a cornice tipo Polaroid insomma per prendere il quadrato pieno delle fotografie Instagram. Quindi assolutamente un profilo di uno street photographer assolutamente di talento. Seguitelo, Josh K. Jackson per vostra ispirazione. Il secondo profilo è quello di M underscore Mateos ovvero Matthew Wiley non lo so come si pronuncia sinceramente ho anche qui un nome un po' particolare 40.200 follower e lui mi piace tantissimo. Ha uno stile particolare ma comunque ha un'espressione, un'espressività comunicativa veramente pazzesca almeno secondo me è veramente 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 bello. Una delle foto che mi piace di più assolutamente è una delle ultime che ha postato che è questa qua, una foto astratta comunque col cagnolino che guarda fuori queste gocce attraverso il vetro insomma delle composizioni molto particolari, molto molto bello. Come possiamo vedere appunto scatta sia in bianco e nero che a colori assolutamente seguite anche il suo profilo e cosa c'è da dire di lui che è un fotografo di origine canadese e che insegna lingua inglese e letteratura comparativa ok? Quindi è un insegnante fondamentalmente ma un ottimo, bravissimo street photographer. Il terzo profilo è un profilo davvero davvero figo Bambi non muore che già il nome questo è... è pazzesco comunque allora andiamo per punti allora come vedete è una fotografa in realtà una donna madrilegna ok? perché appunto di origine di Madrid e non è che c'ha un profilo super seguito perché ha 9461 follower ma la sua consistenza nelle fotografie che ora vi mostro è veramente pazzesca è pazzesca cioè è qualcosa di strabiliante dal mio punto di vista quando si parla di street photography e vedi appunto un profilo come quello di Bambi non muore dici cavolo cioè voglio fare le foto così come detto lei è madrilegna e le piace catturare caratteri veramente unici appunto in giro per Madrid cercando appunto di catturare comunque la bellezza delle luci e dei colori che trasformano appunto la città utilizza molto i colori pastellati e se notate ora che appunto continuo a scrollare sul suo feed noterete probabilmente un qualcosa di molto ripetitivo e molto molto particolare che è la presenza del rosa effettivamente come vedete tutte le fotografie che sono scattate da Bambino muore hanno in un certo senso sempre qualcosa di rosa all'interno guardate l'ombrellone rosa i fiorellini rosa il giubbotto rosa se vediamo anche soprattutto in alto appunto nel feed eccolo qua appunto il muro rosa la vestito rosa il cigno rosa insomma è veramente appunto sono delle foto veramente consistenti che creano un feed veramente veramente pazzesco sono andato poi sul suo sito internet che ora vi mostro molto velocemente bam un bel sederone eccolo qua una delle cose che mi piace di più in assoluto che appunto nella sua sezione della fotografia c'è dove è? ah eccolo qua Candy Beach Candy Beach è bellissimo perché appunto è una sezione in cui ci sono proprio tutte queste foto di signorotte o di appunto situazioni un po' strane persone un po' strane sulla sulla spiaggia guardate che belle appunto particolarissime questa Benny Dorm 2017 guarda che bella anche questa 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 foto qua stupenda fatta dall'alto veramente spettacolare poi appunto questi questi omoni molto pelosi insomma delle delle fotografie veramente bellissime io l'adoro da quando quando lo seguo veramente tutte le volte che guardo il suo feed mi metto a ridere perché ci sono delle veramente le fotografie pazzesche pazzesche e questo era appunto il terzo profilo che volevo consigliarvi assolutamente da seguire il quarto profilo il quarto profilo anche qua abbiamo un profilo particolare Linda Wisdom Photography appunto il suo nick è Linda Wisdom Photography ovviamente è un po' lungo però insomma comunque vi linko come sempre tutto in descrizione allora Linda Wisdom anche lei è una fotografa una fotografa londinese scatta sia in bianco e nero che a colori ha un ottimo occhio e ama spaziare un po' anche qui in tutto il genere della fotoreportage quindi ritratti candid urban luci notturne riflessi eccetera eccetera insomma un artista una street photographer a tutto tondo e guardate un po' cosa ho trovato come foto nel suo feed appena l'ho trovata sono andata a cliccarci sopra perché in realtà come vedete questa foto se avete visto il video precedente relativa appunto agli altri 5 street photographer da seguire su instagram questa fotografia è l'ambientazione della foto di chi? 1 2 3 no non è Bresson sono sicuro che alcuni di voi appunto stavano dicendo è la foto di Bresson no è la foto di Rui Paya la foto di Rui Paya che è stata attribuita in realtà a Cartier Bresson non si sa ancora per quale motivo appunto sul web si sono sosseguite numerose vicende appunto relativa a questa fotografia di Rui Paya sulla foto ci sono dei commenti che chiedono a questo che dicono a questa è la foto di Bresson quindi a questa è l'ambientazione della foto di Bresson e in realtà appunto ancora una volta lei che ovviamente è una persona informata ecco qua che dice no assolutamente non è una foto di Bresson ma è una foto di Rui Paya del 2010 quindi assurdo come su dei profili così distanti ok quindi una fotografa londinese che va in Portogallo quindi a Porto fa una foto nel mercato di Porto e pubblica questa foto e subito nei commenti viene detto ah questo è l'ambientazione della foto di Bresson quando in realtà appunto Bresson qua non c'è mai stato ok foto di Rui Paya assolutamente andate a vedere appunto il video precedente in cui ne parlo poi il quarto profilo o quinto no questo è il quinto profilo il quinto profilo che vi voglio mostrare è quello di Jam Kong Jam Kong si chiama Jam Kong è un altro splendido profilo Instagram anche lui uno street photographer con uno stile dal mio punto di vista veramente particolare e spettacolare lui è di origine in malesiane è malesiano e possiamo notare subito dal suo feed che soprattutto nelle ultime foto ha questo mood molto dark con tutte le foto che avvierano sull'arancione blu giallo blu ok tutte quante le ultime foto o comunque la maggior parte delle ultime foto sono appunto le foto anche con un mood non solo dark ma anche molto malinconico insomma quindi se amate questo tipo di fotografia street assolutamente è un profilo da seguire cosa dire di lui apparentemente lui fa arti marziali o comunque lotta e come ho capito questo perché effettivamente sono andato a spulciarmi non solo appunto il suo sito internet e tutte le sue foto del profilo instagram e ho notato che se torniamo proprio alle origini 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 del suo profilo ok quindi proprio indietro 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 vediamo qualche foto di lui che si allena ecco questo è l'inizio appunto del suo profilo del suo profilo instagram foto che sicuramente possiamo attribuire ad una persona normalissima che prende foto della sua vita normale che le pubblica su instagram in cui però appunto si allena ci sono delle foto in cui sta sul ring in cui appunto tira su dei macigni giganti e robe del genere e niente quindi sicuramente appunto non ci si aspetta da lui eccolo qua in palestra che si allena quindi e da quello che ho capito è effettivamente un un fitness personal trainer fondamentalmente ha alcune foto che oltretutto sono sponsorizzate con la Ricoh perché effettivamente lui utilizza una una Ricoh per per scattare e e niente niente se amate questo tipo questo stile di fotografia appunto molto malinconico stress fotografi molto malinconico vi consiglio assolutamente di prendere spunto da Jam Kong e arriviamo poi all'ultimo ultimissimo profilo che non conoscevo e per questo ringrazio Maurizio Faini che appunto mi ha consigliato questo profilo che appunto come detto non conoscevo e quello di Gustavo Minas eccolo qua Gustavo Minas che poi appunto mi sono informato abbastanza appunto su di lui è un fotografo brasiliano della classe 1981 mi sono poi informato appunto su internet sul suo profilo instagram e sul suo sito internet e cavoli cioè Gustavo Minas è un fuoriclasse un pluripremiato street photographer con numerosissime pubblicazioni e premi vinti dal 2010 fino ad oggi quasi tutti gli anni c'è qualche awards che vince appunto Gustavo Minas è di origine appunto brasiliane e per la precisione di Cassia che si trova Cassia Cassia boh non lo so comunque che si trova appunto sotto alla capitale del Brasile che è Brasilia e anche questo video è terminato spero vi sia piaciuto e vi sia stato utile e che abbiate apprezzato la mia selezione di street photographer di Instagram e cosa vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale di attivare la campanellina di mettere un bel like e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao